Ok, allora buonasera, io sono il gestore e la moderatrice di questa serata, di questa video intervista, questa sera conosceremo un caro amico, un collega di scienze naturali, il suo nome è Onofio Schillacci, docente di scienze naturali, paese all'istituto Ferrari di Borgosesia, con una grande passione per Caravaggio. L'intervista viene effettuata da Pier Mario Ferraro, del Corriere Eusebiano e della stampa di Vercelli, a cui passo ora la parola. Sì, ecco, ringraziamo ovviamente Stefania e appunto Onofio Schillacci, aprirò parte praticamente pochi giorni fa, proprio con Stefania Grasso e Filippo Giacomelli, a una videoconferenza che riguardava l'arte del periodo bizantino fino a Caravaggio. Ecco, Onofio, se vorrei raccontarci qualcosa di te, del tuo lavoro e dei tuoi studi prima di entrare proprio nell'argomento di Caravaggio. Ok, allora, intanto buonasera a tutti. Io sono Onofio, sono un docente di scienze, ho una laurea in farmacia, quindi dopo gli studi presso il liceo scientifico a Medio Avogadro di Vercelli ho conseguito la laurea in farmacia e diciamo sono molto appassionato di scienza, tutto ciò che ha a che fare con le biotecnologie mediche e in generale con appunto farmaci inerenti ad esempio alle terapie contro i tumori. Infatti ho svolto una tesi sperimentale su alcune molecole, sintetizzando alcune molecole per ad esempio la lotta contro il tumore al cervello utilizzando la BNCT, che è una pratica appunto medica molto particolare presente attualmente in Giappone. e oltre alla scienza c'è un'altra grande parte di me appunto dal punto di vista proprio quasi intimo è la mia passione per l'arte e in generale per Caravaggio. Quindi due sono i lati che mi contraddistinguono, diciamo la passione per la scienza e che ho coltivato negli anni leggendo ad esempio articoli scientifici o libri e poi anche la passione per l'arte leggendo appunto tanti libri non solo su Caravaggio ma anche su altri pittori e artisti. Ecco invece come nasce nello specifico la tua passione e il tuo amore per Caravaggio? Ok, allora la mia passione per Caravaggio nasce nel 2007, ero in terza media e al termine della terza media con i miei genitori appunto abbiamo fatto un viaggio a Roma, era la prima volta che vedevo questa città, questa meravigliosa città e durante appunto questa visita mi sono imbattuto nella chiesa di San Luigi dei Francesi, sono entrato casualmente non conoscendo poi all'interno il tesoro che conserva questa chiesa e mi sono appunto addentrato all'interno con i miei genitori e casualmente voltando la testa a sinistra mi sono ritrovato un fascio di luce che entrava dalla finestrella posta in alto della cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi e sono rimasto folgorato da quella che è la vocazione di San Matteo. Ecco questo fascio di luce che mi ha colpito entrava proprio da questa finestrella in alto e mi ha proprio segnato perché ha reso vivo il quadro e appunto sono stato quasi folgorato da questa grande bellezza così viva e così vera. Poi quindi questo diciamo è l'evento di pancia che mi ha poi suscitato questa emozione, questa passione. Poi c'è un altro evento invece di testa che chiedevo al professor Antonio Paolucci che recentemente purtroppo è mancato e questo grande critico d'arte che ha tenuto una lezione appunto su Caravaggio a Roma alla Galleria Borghese e casualmente anche lì senza saperlo ero in visita alla galleria e ho avuto la possibilità diciamo di sentirne un pezzo e lì mi sono appunto appassionato ancora di più, ho scoperto tante cose nuove e da lì è venuta appunto la voglia di scoprire sempre nuove informazioni e nuove scoperte inerenti appunto al Caravaggio. E con l'altra volta avete parlato della pagina Instagram Black Salad, di cosa si tratta? Allora la mia pagina Instagram Black Salad è una pagina che è molto recente, infatti è stata diciamo è un progetto che è nato quest'anno, è nato un po' così per colmare il tempo passato sul Pullman per andare da Vercelli appunto a Borgosesia, ma non solo per scherzo perché in realtà dietro questa pagina metto tutto me stesso, metto le mie emozioni, quello che provo quando osservo un quadro e la pagina in realtà non tratta solo di Caravaggio perché il mio intento, il mio scopo è quello anche di dar voce a tanti artisti conosciuti o meno che si ispirano al Caravaggio, non solo pittori ma anche stilisti, ma anche fotografi e scultori. Ecco ho già fatto due interviste su questa mia pagina, una uno stilista che farà una mostra fotografica e anche una sfilata di moda a cui parteciperò, che si ispira proprio del Caravaggio, e un altro fotografo e anche un tatuatore. Sono tre le interviste che ho fatto a questi artisti che proprio si ispirano al Caravaggio. Quindi è una pagina che non parla semplicemente come tema, cioè non cita solo Caravaggio, ma appunto cita anche i Caravaggeschi che possiamo trovare ancora oggi. Ecco tu mi hai ricordato adesso appunto della luce che ti ha colpito a San Francesco dei Francesi e poi anche l'altra volta vi hai proprio fatto specificato proprio appunto la luce, metà luce, metà volto all'oscuro, sempre riguardante Caravaggio. Quindi visto che parli di luci, di ottica, sei anche tu un appassionato di fotografia come Stefania, anche tu magari vai in giro a fare le fotografie e quale apparecchio usi se appunto utilizzi anche questo metodo per studiare eventualmente le opere? Sì sì, allora a me piace appunto fotografare, in generale utilizzo l'iPhone, quindi semplicemente ciò che ho a disposizione in tutti i momenti, perché mi piace cogliere l'attimo. Quindi ad esempio se vado in una città e trovo un monumento particolare o un dettaglio di quel monumento oppure di un'opera pittorica oppure di una scultura, ecco mi piace immortalarla e portarla con me. Poi stampo anche le foto e una cosa molto personale che faccio è tengo un diario dove stampo appunto la foto dell'opera, ad esempio in questo caso di Caravaggio che osservo e poi a lato dopo aver stampato scrivo quello che mi passa per la mente in quel momento, quindi quello che effettivamente percepisco nell'osservare quest'opera. È una cosa molto intima che tengo per me e quindi è come se fosse una sorta di diario personale. Però fotografico, molto interessante. Ecco Stefania ha raccontato e ha fatto anche vedere alcune fotografie fatte agli uffizi prima della pandemia. Ecco anche tu mi sembra che hai fotografato il bacco di Caravaggio. Ecco vuoi darci qualche spiegazione proprio in merito a quest'opera? Sì sì, con piacere. Condivido solo un attimo lo schermo. Allora spero che si veda la slide. Ok, allora il bacco è un'opera molto semplice ma al tempo stesso molto complessa. È stata dipinta da Caravaggio tra il 1596 e il 1597 ed è un'opera commissionata da parte del cardinale Francesco Maria del Monte. Quest'opera è un regalo di nozze, infatti il cardinale Francesco Maria del Monte voleva donarla a Ferdinando I dei Medici in occasione del matrimonio del figlio Cosimo II. Ecco perché poi si trova agli uffizi a Firenze, quindi c'entra anche con la storia dei Medici. L'opera è abbastanza semplice perché il soggetto è molto identificabile da appunto un bacco, però conserva all'interno come un prezioso scrigno alcuni significati nascosti che adesso vado a spiegarvi molto velocemente. Allora intanto per dipingere bacco Caravaggio dovrebbe seguire la tradizione e quindi prende a modello un giovane che trova in un'osteria dal rossore delle guance, capiamo che questo giovane ha bevuto e quindi è in balia dell'ebrezza e quindi appunto ubriaco. Secondo il modello tradizionale, bacco dovrebbe stare su un triclinio e quindi cosa fa Caravaggio? Non ha a disposizione un triclinio e usa un vecchio materasso che possiamo vedere qui, lo arrotola e vi fa adagiare sopra questo giovane proprio come se fosse un bacco a tutti gli effetti. Il particolare di quest'opera possiamo vederlo nelle unghie sporche del bacco, quindi questo giovane che tiene in mano questo calice ha le unghie sporche e questa è una verità di Caravaggio, non gli dice lavati le mani, lo dipinge così com'è. Poi un'altra particolarità è questo calice di vino e in questo caso possiamo notare delle increspature. Bacco sta porgendo questo calice allo spettatore e nell'atto di porgerlo ovviamente il vino trema, quindi ci sono queste increspature che simboleggiano proprio la realtà delle cose. Un altro particolare è questa canestra di frutta che è presente nella parte bassa dell'opera, possiamo trovare delle mele, delle pere, pere, uva, poi abbiamo una mela grana e anche delle foglie. Qual è la particolarità di questa canestra? La frutta è bacata, quindi sta marcendo, quindi lui non utilizza frutta fresca ma frutta quasi andata male e poi c'è un significato dietro che poi andremo a vedere. Quindi un ultimo particolare che non troviamo in altre raffigurazioni di bacco è questo fiocco, questo nastro nero. Questo nastro nero, simbolo di morte, viene messo da Caravaggio nel rappresentare questo bacco e questa è una rappresentazione del tutto strana e diversa dalle altre, anche perché ricordiamoci che questo è un regalo per un banchetto di nozze, quindi Caravaggio mettendo questo fiocco nero vuole alludere a un simbolo comunque di morte. Inoltre la frutta che sta andando a male, anche questo allude alla fine vita, ma perché Caravaggio mette questi particolari? Perché in realtà questo non è un bacco, per molti critici questo potrebbe essere una rappresentazione di una sorta di Cristo che porge questo calice, simbolo di mistero eucaristico, tiene questo fiocco nero, simbolo appunto di morte, perché per offrire il calice deve purtroppo morire in croce, ed inoltre appunto la mela grana che possiamo trovare qui è appunto simbolo della passione, quindi il lato nascosto di questo bacco è proprio un'allusione alla figura di Cristo che per porgere questo calice divino, quindi il suo sangue, muore e quindi un'allusione alla morte. Ecco, avete pensato tu con Stefania magari di fare qualche itinerario insieme per fotografare e organizzare altre presentazioni sempre legate a Caravaggio magari? Sì, secondo me potrebbe essere una possibilità che colgo con piacere perché mi farebbe molto piacere collaborare con Stefania, quindi molto volentieri. Ne accendavi già prima, a parte l'arte, hai qualche altro interesse, appunto la biologia e la scienza in generale? Sì, sì, allora certamente la biologia e la chimica anche e poi il cinema, mi piace molto appunto il cinema, ad esempio ho trovato bellissimo le film di Openheimer, appunto questo registro, di questo fisico e mi è piaciuto veramente molto, quindi una mia grande passione è anche questa. Ecco, Filippo e Stefania hanno già pubblicato un loro manuale attraverso Amazon, magari ti ispira quest'idea magari di pubblicare qualche libro, qualche opera con questo sistema? Sì, vorrei provare questo sistema per poter pubblicare magari domani un libro sui caravaggeschi del tempo d'oggi, quindi sugli artisti che si ispirano al passato a Caravaggio ma in una chiave moderna. Ecco, qui è entrata anche Chiara, scusami Piermario, che è entrata anche Chiara, la mamma di Filippo, magari se vogliamo dare la parola anche su come hanno trovato la pubblicazione con Amazon, visto che è stato citato Filippo, lasciamo la parola magari anche a Chiara nelle domande inerenti Filippo. Eccomi Steffi, guarda c'è anche Filippo, quindi te lo posso passare tranquillamente. Ciao, ciao. La domanda, io essendo moderatrice, ho anticipato un attimo Piermario sulla domanda che, come ti sei trovato anche tu a pubblicare con Amazon insieme a me? Sì, beh, mi sono trovato molto bene, è un metodo facile, diciamo, ci vuole poco tempo per fare questi piccoli manuali e secondo me sì, può essere una grande idea fare un libro. Perfetto, andiamo di nuovo alla parola Piermario così prosegue nel suo percorso. Sì, ecco, appunto, parlavamo delle opere di Chiara Vaggio, tu le presentate parecchie l'altra sera, appunto, quando abbiamo fatto la precedente videoconferenza. Quale preferisci tra tutte e magari appunto se puoi descriverla e come mai, ecco, preferisci quest'opera, tale tantissime che ha fatto Chiara Vaggio, che ha eseguito? Ok, allora, l'opera che mi piace molto di Chiara Vaggio è la cena in Emmaus, la versione di Brera di Milano, perché la trovo essenziale, la trovo bellissima, molto intensa e la particolarità che mi ha colpito è il volto di Cristo. Ho avuto modo di vedere anche l'altra cena in Emmaus a Londra, la National Gallery, e bella anche quella, però, questo Cristo così imberbe, quindi così giovane, poco sofferente, è bello, però nel senso è molto più forte, molto più empatico, è molto più, diciamo, attuale il Cristo della cena in Emmaus, in versione Brera. E poi appunto l'essenzialità delle stoviglie, questa insalata fatta da erbe amare, questo pane, che è appunto molto simile a quello che poi consumiamo oggi, e la faccia anche dell'oste, dei pellegrini, sono tutti visi che colpiscono moltissimo. E poi una cosa spettacolare è ovviamente questo fondo scuro, su cui emergono queste figure in primo piano, che appunto sembrano quasi stare a quella tavola, quindi è veramente immersivo, è per questo che mi piace. Questa realtà viva di Caravaggio mi appassiona, mi affascina, perché sembra di poter entrare dentro il quadro, e sembra quindi poter quasi banchettare insieme appunto ai discepoli di Emmaus. Ecco, che tu come Stefania sei docenze di scienze naturali, e avete lavorato anche insieme, qual è il ramo della materia che insegni, prediligi e ti appassiona di più? Allora, sicuramente l'anatomia e la biologia, ma anche la chimica. Quello che cerco di trasmettere ai miei alunni, in generale negli anni precedenti, ma anche quest'anno, è proprio il fatto di conoscere il mondo per conoscere se stessi, e conoscere se stessi attraverso la biologia per comprendere il mondo. Quindi diciamo che lo studio dell'anatomia, di come siamo fatti, di come funzioniamo, è un fatto imprescindibile, tutti secondo me dovrebbero avere nozioni comunque basiche di anatomia, di biologia, perché è un po' come non conoscere il proprio nome, il proprio cognome, noi siamo quello che siamo proprio perché esistiamo e viviamo in un mondo che non è omogeneo ma è eterogeneo ed è giusto conoscerlo. Corrivo la stessa domanda a Stefania, che anche lei è appunto docente di materie scientifiche e che qui funge da moderatrice di questa serata. Sì, ho una specializzazione in microbiologia, servita a nulla, però mi appassionava molto la parte della crescita batterica, vedere questi colori brillanti su questi terreni di cultura, farli crescere. Io, a differenza di Onofio, ho seguito più un percorso ecologico ambientale, in quanto io sono molto amante degli animali, come ben sapete, dei gatti in prima linea e mi sono occupata più che altro anche di ecologia, di etologia e di microbiologia ambientale. Adesso anche nel ruolo che sto assumendo nella scuola, tra virgolette, nuova, sono referente all'ambiente e quindi si sta avviando a marzo un corso per gli alunni di macrofotografia anche per valorizzare l'importanza del decoro urbano nella nostra città. Potrei passare anche qui la parola a Filippo perché so che è uno studente modello che non è solo appassionato di storia ma anche di scienze. Possiamo sentire anche lui qual è il ramo delle scienze naturali che predilige finora. Le scienze naturali che mi piacciono di più, allora, mi piacciono molto gli animali, mi piace moltissimo l'astronomia. E qui ho il telescopio qua, vedete, io faccio foto con una canon compatta, i fenomeni in estate, la luna colorata, le congiunzioni. Astronomia, quindi? Eh sì, cavolo, l'astronomia a me piace veramente molto. E quindi anche per questo motivo che è un puntato sulla storia del piccolo San Bernardo perché si parlava del solstizio d'estate e quindi fenomeni astronomici che abbiamo fatto una congiunzione tra storia e astronomia, diciamo così. Sì, sarebbe interessante adaltro farne anche altre. Sì, sì, assolutamente, combineremo, assolutamente. Io ho anche pubblicato, ma devo ancora presentarlo, un fotolibro sul Parc Animalier d'Intrò, in Valle d'Aosta, e sempre dove si parla di ecologia, di etologia, ma anche di botanica, cioè della flora locale, perché ho comprato dei libri proprio alla guida della flora locale della Valle d'Aosta, quindi ho cercato di fare un manovale un po' più ampio, seppur sintetico, di tutte le specie locali e autoctone del parco. Ok, possiamo riprendere, no? Anche la flora, colgo l'occasione per dirlo, mi piace molto. Infatti, infatti. Ecco, Stefania è sempre molto disponibile, è aperta un'iniziativa culturale, e non a casa appunto concede spesso questa piattaforma Meet per altri eventi, legati magari a Caravaggio. Ecco, ti piace questa idea e magari hai già pensato un modo, in alcuna maniera per, diciamo così, utilizzarla. Sì, allora, intanto Caravaggio è un mondo, quindi c'è tantissimo da dire, se ne parla oggi come se ne è parlato nel passato, e quindi si possono organizzare tantissimi incontri appunto con questo tema, che si può anche legare ad altro, quindi Caravaggio ci permette di parlare di tutto, di colori utilizzati, che si riallacciano alla chimica, oppure appunto dell'anatomia, perché lui era molto preciso, e quindi nel dettaglio anatomico, nella flagellazione di Cristo, ad esempio, il corpo del Cristo presenta un'anatomia perfetta, ma anatomia vera. Nel bacchino malato, ad esempio, non so, il colore dell'incarnato, si percepisce appunto che c'è un senso di malattia, ma in altre opere, ad esempio, lui ritrae anche il gozzo tiroideo, tipico di un soggetto con problemi alla tiroide, e quindi anche questo fa parte della realtà, quindi si può legare alla medicina, si può legare alla scienza, alla storia, al costume, cioè si può fare qualsiasi cosa, quindi volentieri. Ecco, ami anche tu gli animali, come Stefania, che ama i gatti, e Filippo, che ama i conigli, ecco. Sì, sì, allora, diciamo che gli animali mi piacciono tantissimo, io ho dei pesci in casa, tra cui uno appunto che si chiama Caravaggio, per restare in tema, però poi condivido anche l'amore verso il cagnolino della mia fidanzata, che si chiama Victor, e quindi, diciamo, ecco, questo. Mi piace, mi piacciono gli animali, mi piace rispettarli, e penso che possano dare un senso di pace e di amore alle persone. Stefania, con la collaborazione di Filippo, sulle diverse richieste ricevute, vorrebbe riedattare il Carnevale Veneziano nella cornice di San Marco, con i mosaici è un richiamo in stile bizantino. Ecco, tu sai di qualche opera di Caravaggio in questa meravigliosa città di Venezia? Hai già avuto appunto modo di visitare Venezia i suoi musei, che è davvero una città bellissima. Sì, ho avuto modo di visitare Venezia la scorsa estate con la mia fidanzata, la trovo una bella città, e ho beccato anche un periodo in cui non c'erano tanti turisti, quindi ho vissuto appieno la città. Non ci sono opere di Caravaggio proprio a Venezia città, però comunque Caravaggio è andato a bottega da Simone Peterzano, che era allievo di Tiziano, e quindi dentro di sé ha comunque delle influenze della pittura veneta. Per cui nel Veneto, in generale anche a Venezia, nelle chiese possiamo trovare delle opere in cui sono presenti dei forti chiaroscuri, dei soggetti in penombra, dei cieli tersi, quindi possiamo appunto trovare non quadri di Caravaggio, ma possiamo trovare i maestri che hanno poi, diciamo, influenzato successivamente l'opera di Caravaggio stesso. Ecco, immagino che avrai parecchi libri di storia dell'arte e di Caravaggio in particolare, con i quali ti documenti anche, ovviamente, poi ti aggiorni anche, che così? Sì, sì, uno ce l'ho qui, ed è il libro di Longhi, è un libro che consiglio di leggere, perché all'interno è un po' difficile, però nel senso, riletto una volta, due, tre, si riescono a cogliere molti dettagli di tutti i quadri. E poi una cosa molto bella di questo libro è appunto le foto originali di Longhi in bianco e nero della mostra su Caravaggio e Caravaggeschi del 1951, e quindi vedere queste foto in bianco e nero ti fa cogliere ancora di più il dualismo luce e ombra tipico del Caravaggio. Ecco, a mi fotografare è la natura, si parlava appunto di fotografie e di immagini, preferisci il mare o la montagna? Allora, io, cioè i miei genitori hanno origini siciliane e quindi io spesso vado in Sicilia, per cui adoro il mare, però non disdegno neanche la montagna. Ecco, mi piace un connubio tra le due, quindi un po' di anni fa sono andato in costiera, ad esempio, dalla casa della mia fidanzata, e lei appunto di Maiori, quindi costiera amalfitana, per cui ecco lì c'è un perfetto connubio, c'è il mare, c'è la montagna, e ci sono dei paesaggi stupendi che ho appunto fotografato anche per servirmi di queste foto durante le mie lezioni di Scienze della Terra. In questa frazione di tempo che rimane, volevo illustrare, visto che sono presenti sia Filippo, Conofrio contemporaneamente, un progetto che si chiamava Arte in Quota, che aveva cercato insomma di iniziare già diversi anni fa, e con uno scrittore vercellese avevamo fatto, lui aveva proposto di fare un'antologia di poesie sue, e mi aveva chiesto di illustrarle. Tramite conoscenze sue era stato pubblicato questo libro, quindi non era una casa editrice, non era Amaz, ma era una casa editrice che conosceva lui, avevamo fatto diverse presentazioni per vendere queste coppie, e a me era venuto in mente, poi avendo questo alloggetto di Cervigna, che purtroppo non è possibile più sfruttare come prima, avevo, visto che era proprietà mia, avevo deciso di creare un salotto culturale, quindi avevamo, con Alessandro Varello, avevamo fatto un pomeriggio di presentazione di questo libro, invitando alcune persone a casa, purtroppo il numero lì deve essere molto poco, perché è un monolocale di sei posti letto, quindi non è che ci possa essere tanta folla, però comunque potrebbe dare dei buoni risultati, quindi pensavo magari se a Filippo e a Onofo, un indomani interessasse fare qualche presentazione in presenza al fresco, si potrebbe approfittare della posizione di questo mini-alloggio, ospitalità ovviamente, per nottamento incluso, per fare queste iniziative culturali, ampliare il salotto culturale, quindi non solo a proiezioni fotografiche, ma anche a presentazioni delle vostre opere. Questo volevo estendervi, questo invito. L'arte in quota comunque tratta anche, non solo di un salotto culturale, ma anche il titolo di due miei volumi, molto piccoli, uno è già stato presentato, riguardava il giudizio universale in Valle d'Aosta, e l'altro deve essere ancora presentato, anche se è pubblicato, comunque è già acquistabile, ve lo faccio vedere qua, e riguarda la prosecuzione del volume 1 perché riguarda sia il Piemonte che la Valle d'Aosta, quindi si chiama, però ha un titolo un po' diciamo diverso, ho deciso di chiamarlo volume 2 L'Apocalisse tra i fiori, anche per fare un discorso un po' più, diciamo, naturalistico. E avevo fatto, e nasce l'idea in quanto l'estate scorsa arriva a Valdobbia, avevo, ero stata, io facevo, purtroppo per i problemi di salute dalla mamma, ho dovuto fare delle puntatine così giornaliere, senza, ho dovuto rinunciare ad alcuni viaggi, però stando a Riva Valdobbia, visitando di nuovo questo meraviglioso affresco del giudizio universale, che comunque è patrimonio culturale in Italia, avevo immortalato meglio da vicino, con l'obiettivo fino a 300 mm, i propri dettagli degli affreschi molto trattati tra le foglie dei rami, qualche fiore, e questa cosa poi è andata avanti a Verreille, che è vicino a Châtillon, a Fenice, per poi andare a Brusson, scusate, a Saint-Ven-Saint, era l'ultima parte, quindi tutte, e mi è andata anche bene, perché a Fenice mi sono stata ospitata da una signora molto gentile nel suo giardino, privato, perché aveva visto che stavo fotografando, e ho detto, venga dentro, che ci sono anche delle rose, quindi ho fatto anche delle scene apocalittiche tra i fiori, ecco perché il titolo è l'apocalisse tra i fiori. Questo va ancora presentato, ovviamente si è rappresentato un po' più avanti, perché devo dare spazio ad altre iniziative, però sono anche fotolibri che un indomani si possono fare anche in presenza, anche magari col vostro sostegno, aiuto, e sono già comunque acquistabili anche questi sulla piattaforma Amazon. Ecco, se poi voi volete dire due parole per eventuali collaborazioni, vi lascio un attimo la parola. Allora, io ho trovato questo titolo geniale, l'apocalisse tra i fiori, bellissimo, quindi, cioè nel senso, acquisterò poi il libro perché voglio vedere appunto queste foto, e per il momento mi sembra un buon progetto. Sì, diciamo che parte sui del nome 1, c'è tutta la spiegazione e tagliata anche del giudizio universale. Il volume 2 è già più, tralascia alcune cose del volume 1 e così. Chiara, voleva prendere la parola? Filippo? Sì, comunque, qualsiasi collaborazione parteciperò molto, molto, molto volentieri. Ecco, poi l'altro intervento che volevo moderare questa sera era, io ho già avanzato una richiesta in Svizzera presso un ristorante di Sempione, di Simplondorf, per fare la presentazione proprio sul luogo del fotolibro che è dedicato alla storia di Caspar Stokalper, del barone e della storia di Napoleone lungo il passo a Sempione, quindi con tutte le testimonianze storiche del momento. e avevo chiesto a Filippo se indomani qualcuno si degni di dar risposta se voleva fare un intervento sulla parte del ritrovamento inerente le monete romane. Assolutamente, come già detto, sì, sì. Ok, quindi questo era un po', insomma, i nostri interventi. Poi vediamo per la presentazione nel senso quella in Svizzera perché devo dirlo anche a mio marito e però sicuramente la parte di ricerca storica sicuramente la farà. Poi bisogna vedere il periodo in cui si vuole andare. Io ho già scritto a due indirizzi diversi perché questa signora ha sempre risposto. Adesso non so se c'è un momento di chiusura oppure no, io comunque ho fatto la richiesta e ho messo quale per loro fosse il periodo migliore per essere sul posto. Quindi è ancora tutto da valutare. Sì, certo, sulla ricerca storica sicuramente perché sai che Filippo è sempre sul pezzo, a lui piacciono queste cose. Per quanto riguarda appunto la presentazione non lo so, vedremo strada facendo insomma. Sì, vabbè, chiaro. Poi magari accettano di farla anche da remoto per cui vediamo. Sì, 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 sì. ha suonato il telefono per quello che è andato via, non so se lo sentite parlare. Ok, passo la parola per Mario così poi concludiamo. Sì, ancora una domanda per Stefania e anche eventualmente per Filippo. Nel scorso video di serata avevamo parlato della, è stata citata la patena, ecco, tu che l'hai fotografata nel museo di Perlou, che cosa ci puoi dire in merito al suo significato? Ecco, per chi tra di noi non lo conoscesse, Perlou, è il primo comune che si incontra andando verso Gressonei da Ponsa Marten e la chiesa parrocchiale che purtroppo è aperta soltanto una volta alla settimana ed è aperta solo su richiesta per la carenza dei sacerdoti nella zona, conserva dei reperti antichi che comunque anche seppur piccolissimo destra un grande interesse perché ci sono testimonianze per chi abita qui nella nostra zona che provengono anche dalla Valsesia. Si dice che ci fosse un gruppo di pellegrini con i costumi valsesiani, però qualcuno dice che sono i valser svizzeri non si sa. All'interno però di questo museo c'è una serie di oggetti religiosi, molti dei quali però sono finiti al museo del tesoro del Duomo di Aosta che con Chiara ne avevamo già parlato si pensava magari una volta visto che Filippo ha tutto questo interesse per la storia della domanda di tornare insieme ad Aosta e per l'occasione visitare anche il museo del tesoro del Duomo. La patena io l'avevo fotografata qui so che aveva destato un po' di curiosità nella presentazione scorsa adesso non so se la vedete poi io ho creato questo puscolo a favore di una raccolta di offerte si trova un euro anche questo su Amazon e in questo puscolo vengono citati i reperti di questo museo della chiesa parrocchiale poi avevamo già fatto anche una breve presentazione di questo puscolo alla patena io l'ho fotografata ed è questa qui che vedete qua quindi adesso non so se anche Chiara Filippo hanno avuto la stessa idea di cercare un po' di notizie su questo io ho messo che l'oggetto che conserva l'ostia prima della consacrazione e subito dopo e serve a copri calice qui sono praticamente opere non si sa bene di chi autori ma della patena mi è venuto fuori questo nome di questo orafo Ghiotti che operava esercitava nella seconda metà del diciottesimo secolo questo è per il momento tutto quello che si sapeva poi non so se Filippo quando ha presentato l'arte bizantina aveva trovato qualcosa forse in più di definizione non possiamo chiederglielo è suonato il telefono un secondo il telefono per cui si è staccato come ti dicevo per cui aspetta non importa se non ha tempo no niente ok no sono per curiosità per cui ok no in conclusione visto che non ci sono interventi esterni volevo solo anticipare io l'evento che terrò sotto Pasqua quindi antecedente le vacanze pasquali dove spero che ci sarete anche voi sempre su questa piattaforma si chiama Eluce Fu sarebbe come una sorta di serata di preghiera che si ispira sia ai versetti delle letture di Pasqua della religione cattolica ma vuole essere più che una preghiera cattolica una sorta di panteismo di contemplazione della natura di ringraziamento dei doni che madre natura ci fa sotto forma di ispirandoci ai versetti dei salmi e questo perché le foto saranno essenzialmente del Monte Rosa del Gran Paradiso del Cervino e del Monviso il Cervino più che altro è scattato da Prarolo e quindi si vedrà soltanto la punta ma l'idea è quella di cogliere la luce nella tenebra quindi lo scattate dal settimo piano da una gentile signora che poi conoscerete durante l'evento che molto spesso mi ospita e quando c'è la luce bella mi chiama proprio per fotografare tutta la panoramica di montagne attorno che si vedono anche per fortuna dalla zona di Vercelli quindi vi darò poi la data l'ora il link perché spero che voi possiate possiate partecipare questo era era quanto poi se avete qualcosa ancora da aggiungere vi lascio la parola ok e quindi la registrazione c'è vi farò poi avere per diffondere sui vostri blog con i vostri amici vi darò poi il link alla registrazione che questa volta comunque pubblica e grazie per aver preso parte alla serata tra di noi è sempre bello chiacchierare con gli amici anche in questo modo esatto vero Steffi hai ragione sì diciamo che